La Triveneta Cavi presenta l'FTG 18M16 Trisecure Top, certificato CPR, IMQ ed Eurofire Performance. Il cavo è stato sviluppato per poter resistere in caso di incendio almeno 120 minuti, garantendo così il buon funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza. È un cavo che deve sottostare delle prove importanti perché è stato progettato per una resistenza a fuoco incisiva, quindi viene sottoposto ad una fiamma che invade il cavo durante la prova a 830 gradi per 120 minuti. Nello stesso tempo il cavo viene fatto passare a una tensione di 1000 volt, ulteriormente sottoposto ad una prova meccanica con un battente che interviene ogni 5 minuti. È rivestito da una guaina termoplastica ed ha la particolarità di avere le anime rivestite da un nastro in vetro mica che contribuiscono in maniera determinante alla resistenza al fuoco così elevata. Grazie a tutti.